Zanzi, un sorteggio difficile contro il Real Madrid, forse peggio di così non poteva andare? No, non parliamo così perché alla fine tutti i rivali a questo punto sono grandi, sono difficili, quindi sarà una buona sfida. Ovviamente il Real Madrid è una squadra con molte storie, molto talento, grandi giocatori, ma anche noi siamo molto fiduciosi nei nostri e nel nostro piano. Ci sarà un atteggiamento diverso, la Roma ha fatto tesoro dagli errori contro il Barcellona perché è stata una partita un po' così, l'atteggiamento magari sbagliato? Non voglio parlare della partita con Barca perché ogni partita è diversa, quindi lo che sono sicuro è che saremo pronti per questa sfida con Real Madrid, vediamo a febbraio specificamente come si affronta, ma andiamo bene. La partita si giocherà a febbraio, quindi il mercato di riparazione sarà finito, porterà qualcosa di nuovo? Sempre stiamo analizzando, ma sempre fiducioso anche nel nostro, abbiamo una grande squadra. Per quello che riguarda i tifosi che sono mancati ultimamente anche nelle partite in casa, il pubblico sarà decisivo soprattutto per la partita d'andata all'Olimpico? Ovviamente vogliamo un stadio pieno, vogliamo i nostri tifosi, se vede ieri come è stato il Sao Paolo, è una bella cosa anche per noi quando possiamo contare con questo supporto, quindi magari lo avremo in febbraio. L'ultima cosa, c'è un precedente positivo nel 2008, la Roma vinse sia all'andata che al ritorno proprio gli ottavi di finale. Sì, ma le storie per me non contano molto, solo contano queste due partite, staremo pronti. Grazie. Grazie.